Oggi vi voglio raccontare un piccolo episodio, un piccolo aneddoto che mi è capitato e dal quale vorrei poi insieme a voi no far nascere una discussione, però far nascere una riflessione e prendere spunto per parlarvi non tanto di hardware, di pc, di build in generale, ma di come è possibile in qualche modo cercare di ottimizzare, va bene, in determinate situazioni la spesa e il vostro budget. Perché? Perché spesso e volentieri noi, mi ci metto io, ok, in primis, quando facciamo una build, quando vi consigliamo delle componenti, siamo i primi a dirvi ragazzi per 100, 150, 200 euro in più questa scelta non conviene, andate direttamente su questo, su quell'altro. Quando ci sono effettivamente delle situazioni dove il 100, 150 euro in più non è possibile spendere. E quindi che succede? Ciao ragazzi, bentornati, bentornati in un nuovo video, bentornati su MV Hardware, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete nuovi e vi ricordo che lo sponsor di questo video, come sempre, è la piattaforma di cui abbiamo sempre parlato, vi ho sempre portato qui lo sponsor e vi mette a disposizione chiavi di Windows e non solo su Wookies. Infatti, se avete necessità, potete acquistare tranquillamente Windows 10 a poco più di 12-13 euro e pagarlo veramente poco grazie al codice sconto MHD che trovate in descrizione e vi dà diritto al 25% di sconto. Ma potete anche acquistare direttamente Windows 11 ad esempio nelle varie versioni o perché no pacchetti Office come l'Office Professional Plus 2016 o l'Office Professional Plus 2019. Acquistare è semplicissimo, inserite il prodotto nel carrello, inserite il codice sconto MHD e avete diritto allo sconto. Pagate con un metodo di pagamento che il sito vi propone, la chiave vi arriva direttamente sul vostro account, la inserite ed il gioco è fatto. Quindi tutti i link li trovate giù in descrizione. Ora, che cosa in realtà è successo e mi ha spinto poi a fare questo video? Che al lavoro sono stato avvicinato da un collega, collega che io non conoscevo, collega infermiere di un altro reparto. Siccome siamo veramente tantissimi, un ospedale grandissimo, è facile che una persona, diciamo, non si conosca. Questo collega però invece mi conosceva benissimo perché è una persona che mi segue, il figlio di 11 anni appassionato di videogiochi mi segue ed è venuto a chiedermi un semplice consiglio. Più che consiglio, diciamo, è stato quasi una sorta di appello, di aiuto perché mi ha chiesto ovviamente di fargli una build, di consigliargli delle componenti perché vuole fare questo computer al proprio figlio per Natale con un budget estremamente limitato e il suo budget inizialmente era di circa 5-600 euro. Ora ovviamente abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato e io ho cercato in qualche modo di tirargli un po' questo budget più su perché voi sapete benissimo che sotto le 8-900 euro l'unica soluzione tra virgolette è AM4 e non ci sono riuscito. In che senso? Nonostante abbia cercato di spiegargli che conviene molto di più oggi puntare a determinate piattaforme per quanto riguarda una certa longevità e io mi sono dovuto non arrendere, mi sono dovuto fermare perché per una serie di cose ho avvertito che il budget quello è. Cioè io non ho potuto più di tanto insistere con questo caro collega che ho preso a cuore per cercare di fargli comprare un pc al proprio figlio di 12 anni che costasse circa una 900 euro. Quindi avvertita questa cosa ho capito che dovevo restare entro un budget di 650 euro. Altrimenti sto bambino il computer a Natale non l'avrebbe avuto. Per ovvie ragioni non sto qui io a diciamo giudicare, fare, non mi interessa. E da questa cosa ho anche capito che a volte quando noi magari consideriamo delle componenti vi diciamo per 50 euro, per 60 euro, per 100 euro non vi conviene questo, non vi conviene quello. Sì è ovvio che ognuno e poi fa quello che gli pare però ci sono delle situazioni dove effettivamente c'è chi quel 50 euro, quel 60 euro in più non lo può cacciare. Allora io ho pensato, ho detto pensiamo ad una build da 650 euro, però colgo l'occasione di chiarire, di parlare con tutta la mia community, con chi mi segue, non solo dei limiti ma del modo corretto secondo me con il quale una build del genere può essere usata, può avere ancora senso oggi e quali sono delle piccole accortenze che una persona può avere affinché un pc del genere possa far contento comunque un appassionato o un ragazzo ma anche un adulto o una persona che vuole farsi un pc ma ha un budget praticamente limitato. Siamo al limite della piattaforma perché oggi fare una piattaforma su AM4 è un qualcosa di limitante dal punto di vista della componentistica e dal punto di vista della longevità in generale però AM4 è ancora attualmente la piattaforma più economica e se noi prendiamo questa build con una certa consapevolezza possiamo in qualche modo ritenerla ancora valida e per valida io intendo soprattutto basato sul rapporto qualità prezzo ok anzi prezzo prestazioni la build è ovviamente basata su un processore che tutti conosciamo che nell'ultimo periodo ormai ve lo buttano a presso ed è un 5600 che costa 99 euro con una classica B550 in questo caso la DS3H che è una delle B550 più vendute della storia e con i soliti 16 giga di RAM DDR4 3200 MHz CL16 su questa piattaforma un ssd da un tera economico ci sta bene perché per 60 euro prendiamo ad esempio un gen 3 questo passa per 10 euro magari possiamo arrivare a prendere un gen 4 ma sempre di fascia economica e nel momento in cui voi su una piattaforma mettete un P550B un alimentatore da 550 watt abbastanza economico ma comunque di buona fattura ci andiamo a mettere un case in questo caso io ho preso il Versa H16 che è un micro ATX è uscito da pochissimo questo case ed è anche carino perché ha tre ventole RGB molto economico però è un case nuovo della Thermaltek fa la sua figura non è nulla di particolare ce ne sono a decine di case simili ok sono i classici case simili lamierini però per 55 euro ci sta e come scheda video io ho inserito la 6650 XT che è una scheda secondo me in questo momento che offre una buona ok un buon rapporto qualità prezzo e non è diciamo la scelta definitiva infatti io vi porto questa build ma sappiate che fra qualche giorno avremo le recensioni soprattutto delle nuove ARC quindi è un esempio il mio ma tranquillamente al posto di questa scheda ci potreste mettere una nuova ARC una B570 per esempio che potrebbe avere anche performance soprattutto migliori essere una scheda più nuova con più tecnologie quindi non vi fossilizzate in questo momento questo è solo un video in generale per farvi capire il tipo di computer il tipo di target di prestazioni e soprattutto se conviene oggi fare un pc con questi budget perfetto una volta che io ho tirato giù questa configurazione sono andato a vedere un po' il costo finale e il costo finale di 650 euro ora fare un pc del genere con AM5 che in questo momento rappresenta il top in qualche modo della componentistica anche sulle fasce minori significa effettivamente rinunciare a qualcosa nel momento in cui voi voleste fare una build economica ma basata su AM5 purtroppo andate a spendere penso almeno un 150 euro in più perché un 7500 f lo trovate a 150 euro quindi 50 euro in più rispetto al 5600 ma c'è una bella differenza tra i due processori un kit di 32 giga di ram lo pagate circa 100 euro e infine una bise 50 economica la pagate intorno ai 150 euro quindi voglio dire ci sono ci ballano un 200 euro abbondanti di differenza e quindi capite che da 650 si va a finire a 8 900 euro di build che è una fascia comunque sotto i 1000 euro ma che può essere uno scoglio per alcuni purtroppo ci esistono persone che non possono spendere non li vogliono spendere non riescono e piuttosto che non farlo proprio il computer io preferisco che facciano un pc limitato che conoscano e siano consapevoli delle limitazioni di questo pc ma che almeno facciano un pc decente perché questo a tutti gli effetti può essere considerato un pc di fascia bassa un pc economico un pc con delle limitazioni soprattutto la piattaforma ma non possiamo dire che sia un computer che non abbia delle performance decenti soprattutto in 1080p che target di prestazioni questo pc può portare ad un ragazzo di 11 12 di 8 anni di 10 anni quanto sia il full hd a 60 fps allora nel momento in cui voi a questo computer gli comprate un monitor ok 1080p anche un 75 hertz e sulla maggior parte dei giochi il 1080p con la 6650 xd voi ovviamente non avete grande manovra per quanto riguarda ray tracing e cose varie quindi dovete essere consapevoli che non potete giocare con un pc da 650 euro in full ray tracing sugli ultimi titoli ma potete tranquillamente fare una cosa intelligente cioè limitare sui titoli il frame rate a 60 quindi andare praticamente con i frame limitati in modo tale da diciamo sgravare un po il processore e sgravare anche un po la scheda video in generale e andare con i settaggi in modo tale da raggiungere i vostri 60 fps quindi se oggi una persona viene da me e mi dice questo computer è un buon computer per giocare ad esempio in 1080p o utilizzando anche un po di fsr utilizzando anche un po di tecnologie a fmf riuscire ad avere i 60 frame stabili su un po di giochi la mia risposta è principalmente sì ok nonostante si possa andare con qualche scheda video più potente ma per restare nel bacio dei 650 euro secondo me questa è la scelta migliore ok quindi fare un computer del genere oggi ha senso per chi non vuole spendere più di questa cifra che è una cifra nettamente più importante rispetto ad una console base come può essere non lo so la ps5 vi dà modo di accedere a tutto il mondo ok pc quindi a tutte le piattaforme come possono essere steam tutti quelli che sono i giochi su pc quindi per chi vuole entrare ok in un mondo pc dove non per forza bisogna giocare agli ultimi titoli ai titoli più pesanti ma voi avete decine e decine di migliaia di titoli cioè voglio dire che girerebbero anche su un tostapane cercare di ottimizzare le impostazioni grafiche sui vari giochi per stare all'interno di un 60 fps con dei monitor magari che oggi ve li buttano dietro veramente un monitor da 1080p ma anche un 1440p upscalato se volete potete tranquillamente cercare di raggiungerlo grazie alle tecnologie grazie alla frame gen di amd e grazie all' fsr che non sarà la migliore delle tecnologie il migliore dell'upscaling o se decidete di prendere una b570 l'XSS2 quindi ci sono ancora tutta una serie di fattori che mi fanno oggi pensare che un pc del genere vada benone per tutta una serie di scopi che sia però un pc che abbia un budget limitato perché se noi su questo pc che consapevolmente compriamo per un motivo ovvero risparmiare ci iniziamo a caricare soldi quindi iniziamo a dire vabbè mo quasi quasi invece della 6.650 e ci mettiamo la 7.650 ci mettiamo non lo so la 6.800 e al posto di 32 e posto di 16 perché non ci mettiamo 32 giga di ram a questo punto visto che oggi il minimo è 32 e al posto del 5.600 perché io non ci vado a mettere un 5.800 discorsi che in un certo senso filano fino a un certo punto perché vi ritrovate poi un pc che costa 1000 euro e a quel punto capite che se i 1000 euro li potete spendere e voi non siete per forza legati ad un hardware tra virgolette limitato potete gestire meglio la spesa quindi vi lascio io questo pc in descrizione perché così come il mio collega magari è venuto da me ci possono essere anche altri colleghi immaginari o persone come voi che in questo momento dicevo voglio spendere 6.5 650 euro ok io penso che questa sia una delle scelte migliori poi consigliatemi anche voi non lo so se avete anche altre idee magari io non è che sono perfetto se qualcuno di voi ha qualche idea differente riguardo a qualche componente scrivetemelo anche giù nei commenti unica incognita ovviamente il lancio delle arc delle nuove battle mage che vi consiglio quindi di attendere questi pochi giorni per vedere se ne vale la pena oppure no almeno al lancio ok e può essere l'unica soluzione in questo caso secondo me per molte persone a patto che raga più di 600 650 euro su una bill del genere io personalmente non li spenderei né mo né mai firmato sottoscritto timbrato fatemi sapere voi che cosa ne pensate iscrivetevi al canale se non volete perdere altri video e volete essere sempre aggiornati sulle ultime novità io vi ringrazio di essere qui con me e video appuntamento al prossimo video ciao